I modelli di business in abbonamento sono il futuro della distribuzione di cibo e bevande? E quindi cosa fare per distribuire con successo cibo e bevande in abbonamento ai propri clienti, privati e industriali? Belle domande, è vero? Abbiamo le risposte, ce le hanno fornite. Fernando Alberti, professore ordinario di economia aziendale alla Liuc, Università Cattaneo, e Massimo Furlan, direttore dell'Università della Birra, con noi, subito dopo, la sigla. Questa rubrica è offerta da Montelvini, Alleati in Vigna, Vita Vera, Acqua Vera. Ben trovati, siete nella rubrica Spunti di Vista, dove con i nostri sempre graditi ospiti facciamo il punto sulle criticità, sulle novità e sulle opportunità del mondo oreca del mercato food and beverage. Un settore molto dinamico, come sappiamo, dove gli operatori sono capaci di evolversi e proporsi e portare avanti i loro business con tanti e diversi modelli. E fra questi ce n'è uno che ha destato la nostra curiosità, il sub-inscription business, ovvero distribuire e vendere in abbonamento, nel nostro caso, cibi e bevande. L'argomento molto interessante è stato trattato in uno degli appuntamenti di A Tavola con evoluzione del food and beverage in Italia, il progetto formativo di Università della Birra e Liuc Business School. Ne abbiamo parlato in altre puntate con argomenti qui sempre a spunti di vista. Ma andiamo al tema di oggi. Il primo punto di domanda è I modelli di business in abbonamento sono davvero il futuro della distribuzione di cibi e bevande? E poi è un modello applicabile con successo anche alla filiera oreca italiana, la cosiddetta filiera lunga? Per cominciare abbiamo posto questa domanda al professor Fernando Alberti, ordinario di economia aziendale alla Liuc. Non direi che è il futuro solo della distribuzione di cibi e bevande, ma è un po' il futuro di tutti i settori, almeno così dicono i nostri studi. Noi vi ricordo abbiamo studiato tutte le imprese più competitive, cioè quelle con un tasso di crescita del fatturato, della redditività del personale su dieci anni, sia per il manifatturiero che per i servizi in Italia, e abbiamo notato come una traiettoria trasversale alle imprese che vanno meglio di tutte le altre, che sia appunto quella di trasformare il proprio modello di business in un subscription business. Del resto, come dicono i teorici del subscription business, non c'è nessuna ragione per cui un'impresa non debba trasformare il proprio modello di business in un modello di business in abbonamento, a meno che non goda di un monopolio, di un vantaggio competitivo geografico o basato su qualche proprietà intellettuale. L'indice che misura questo è l'indice 6, subscription economy index, che su dieci anni si è confrontato di nuovo con lo Standard & Poor's 500, l'indice delle vendite di Standard & Poor's 500, ci mostra come in questo caso le imprese con un modello di business in abbonamento abbiano avuto una crescita del 400-37%, mentre quelle di Standard & Poor's 500 solo del 130%. Quindi sicuramente un vantaggio per tanti o per tutti. Per di più, tanto più è lunga la filiera e meglio è, mi viene da dire, nel senso che i modelli di business subscription accorciano la filiera, la vanno a disintermediare, vanno a creare il cosiddetto direct to consumer e rendono anche più stretti i legami, perché rendono più stretto lo scambio di valore tra gli attori lungo una filiera, in termini di servizio, in termini di dati, in termini di innovazione, di flusso di revenue. Accorciare la filiera, disintermediare, aumentare il valore, lo scambio di valori, ottenere informazioni di ritorno dirette e più rapide, ecco i primi fondamentali plus per chi opera con questo modello di business. Ma guardando a una filiera oreca che da monte a valle vede attori diversi, come produttori, distributori, gestori di punti di consumo, in che modo è possibile mettere a punto una meccanica di abbonamento chiara e conveniente? Abbiamo chiesto al professor Alberti quali sono, a suo avviso, i soggetti che possono legarsi, ecco, promettersi con efficacia e quindi con maggiori possibilità di successo. Domanda che l'intrica ovviamente è un lavoro di consulenza, anche perché il modello di business va disegnato ad hoc in maniera sartoriale come tutti i modelli di business, che è un po' quello che fanno le persone che come me si occupano appunto di strategia di impresa. Ma proprio nel mondo oreca sono moltissimi casi internazionali che ci permettono di codificare alcuni modelli di business in abbonamento che legano produttori a clienti finali ma anche a retailer, a grossisti, grossisti che si legano a retailer e ristoratori, retailer e ristoratori che si legano a sistemi di delivery, di distribuzione all'ultimo miglio e così via. Quindi in qualche modo il tema dell'efficacia non lo legherei alle vecchie lente, le vecchie logiche della filiera del canale che mi paiono essere ampiamente superate, ma ragionerei più che altro sulla reason why dell'abbonamento, cioè qual è la ragione per la quale abbonarsi, quindi dalla scoperta, alla collezione, alla creazione di fedeltà, alla formazione del cliente, alla rotazione, alla scoperta, all'accesso a elementi che non sono facilmente raggiungibili nella quotidianità, lo sharing, la condivisione, il pay per use, al priority, il front of the line, piuttosto che al members only, ai box, i box surprise, i box mystery, i box curati, tutta la curatela nel mondo del food and beverage che è così tanto presente, sono un po' la ragione per la quale sottoscrivere un modello di business in abbonamento nel cibo e nelle bevande e soprattutto nella distribuzione di cibo e bevande. Quindi come abbiamo ascoltato, cibi e bevande contengono gli ingredienti necessari per puntare a fare impresa in abbonamento, per mettere in moto e implementare questo modello di affari, adoperando ovviamente al meglio le leve del marketing e della creatività, che certo non manca che opera in questo campo, ma un punto da chiarire ce l'abbiamo. Quanto è applicabile questo modello nelle attività di B2B, in special modo fra produttori e distributori? Ascoltiamo il professor Alberti. L'invenzione B2B, B2C, business to business, business to consumer è un'altra delle traiettorie che abbiamo identificato come superate, nel senso che le imprese più competitive da noi studiate vanno verso un modello di business B2I, business to individuals, conoscendo a valle gli utilizzatori finali, approfondendo le caratteristiche e soprattutto le circostanze di utilizzo finale dei loro prodotti, anche se sono a monte nella filiera. Ci sono ovviamente tante relazioni che possono legare produttori a distributori, siano essi grossisti o dettaglianti, o ristoratori, o bar, o quant'altro. Pensiamo per esempio a quelle formule di fornitura a taglia e non prodotto per prodotto, item by item, o le forniture tematiche che dietro hanno una curatela specifica, oppure un tema di prodotto, di territorio, oppure un portfoglio di prodotti che magari include non solo prodotti ma anche servizi, in una logica cosiddetta all-inclusive. Quindi i benefici, secondo me, sono dei benefici mutui, sia per chi fornisce un modello di business in abbonamento, sia per chi ne fruisce. Per chi lo fornisce un flusso costante di ricavi, che permette anche una valutazione aziendale più alta, più robusta, dati comportamentali per poter continuamente innovare il proprio sistema di offerta, una relazione diretta con i clienti e la fedeltà. E per chi lo fruisce ovviamente la possibilità di poter separare in piccole rate i pagamenti, in rate costanti, una certa convenienza, una flessibilità enorme perché libera dagli asset. Quindi pensiamo per esempio all'all-inclusive che include anche non solo prodotti come cibo e bevandi ma anche frigoriferi, bancali, pallet, piuttosto che impianti di varia natura e una capacità di essere sostanzialmente a zero responsabilità per gli utilizzatori finali perché non essendoci più gli asset, non essendoci più la proprietà, c'è solo la fruizione di un servizio che comprende appunto tutti questi elementi. Ecco un'altra parola chiave, fornire servizi. Una dimensione dove sempre più deve misurarsi anche il distributore ORECA e quindi su questo punto chiamiamo in causa Massimo Furlan, direttore dell'Università della Bira, al quale abbiamo chiesto quanto è più complicato per un distributore ORECA che tratta migliaia di referenze che hanno rotazioni diverse, che cambiano di stagione in stagione, di anno in anno. Ecco, com'è possibile organizzare e gestire un modello di business in abbonamento verso i punti di consumo. Ascoltiamo Furlan. La varietà di realtà che compone l'ORECA italiano impone ai distributori di adottare modelli di business solidi e allo stesso tempo di essere velocemente adattabili ai cambiamenti che segnano il mercato. Cambiamenti che in questi ultimi anni sono risultati frequenti e spesso poco o addirittura per nulla prevedibili. Guardando quindi nello specifico ai modelli di business in abbonamento, la difficoltà principale per un distributore ORECA sta nel leggere e prevedere le tendenze del mercato e di conseguenza gestire in modo corretto le scorte di magazzino e le rotazioni, ma anche la scelta dei servizi da offrire ai propri clienti che possono andare dalla gestione telematica degli ordini alla consulenza personalizzata. In questo senso ci sono molteplici soluzioni digitali e processi gestionali che possono agevolare l'attività del distributore, ma la tecnologia da sola non basta, è necessario saper fare le scelte giuste dal punto di vista strategico. Noi come Università della Birra supportiamo i distributori proprio nella definizione delle strategie attraverso corsi di formazione dedicati a costruire competenze commerciali, manageriali e digitali, nonché contribuendo ad una profonda conoscenza del prodotto e del mercato. Bene, supporto e formazione sono essenziali, ma questo modello di business che richiede comunque strategie sofisticate, specifiche, competenze organizzative e gestionali, è ad appannaggio unicamente di aziende strutturate, quindi di grandi aziende multinazionali? Risponde Furlan. Non credo si possa dare una risposta generale a questa domanda. Le aziende di grandi dimensioni possono sfruttare il loro peso sul mercato e hanno organizzazioni certamente più strutturate, ma quelle più piccole possono contare su una struttura più snella e flessibile che si può adattare più velocemente ai cambiamenti. Esempi da tutti i settori dimostrano che non sono le dimensioni a fare la differenza, ma la capacità di leggere il mercato e di anticiparlo. La capacità, cioè, di vedere le nuove opportunità e di fare leva sui propri punti di forza, per raccoglierle e offrire ai propri clienti soluzioni più efficaci. In questi tempi, come mai prima d'ora, è sempre più importante conoscere le esigenze dei propri clienti e rispondere con tempestività con nuovi prodotti, nuovi formati, nuovi servizi, nuove soluzioni e anche nuove soluzioni logistiche. Ovviamente tutto questo è possibile solo se si dispone delle giuste competenze e di una struttura solida e ben organizzata, grande o piccola che sia. Bene, grazie Furlan. Torniamo ora al professor Alberti, al quale abbiamo chiesto alcuni esempi concreti di aziende che con questo modello di business stanno, come dire, facendo scuola. Ascoltiamo il prof. Come dicevo, il mondo della ristorazione, del cibo, delle bevande, dell'oreca è decisamente il mondo del subscription business, nel senso che la stragrande maggioranza dei casi nazionali e internazionali è appunto in questo ambito. In particolare, quando si parla di cibo e bevande, è nel mondo dei box alimentari, i box ecno-gastronomici, i box sorpresa, i box regalo, i box tematici, i box grocery, i box di apprendimento, quelli con le ricette, quelli con le ricette codificate, con i video, con gli strumenti anche per realizzare determinati prodotti. Oppure sui collezionabili, per chi ha una passione, magari per un tipo di vino, per un tipo di birra, per alcuni tipi di superalcolici. Per cui decisamente qui c'è la stragrande maggioranza delle casistiche che si possono ritrovare a livello nazionale e internazionale. Da grandi, grandissimi, imprese come Barilla con Pasta Evangelist, a Hello Fresh, che è arrivata anche in Italia, a Cortiglia sulla distribuzione grocery, a Panera, nei bar, a First Leaf per la scoperta dei vini, Try the World per la scoperta invece in giro per il mondo di prodotti di cibo e bevande provenienti da varie località, fino ad arrivare anche piccole start-up. Ecco, sicuramente un caso interessante nel mondo della distribuzione di cibo e bevande tematiche, una piccola start-up nata appunto da un grossista, da un distributore in Italia, è quello di Lolla, che in Sardegna ha messo assieme un sistema di offerta tematico regionale di cibi e bevande provenienti da quella regione, sia per coloro che amano la regione Sardegna e che quindi ne sentono la mancanza, sia per coloro che invece vogliono scoprire, abbonandosi tematicamente, una serie di esperienze, magari stagionali, mischiandole tra gusti, profumi e sapori, sia per tanti che sono sardi in giro per il mondo e che hanno la nostalgia della loro terra e vogliono rimanere in qualche modo legati almeno attraverso la tavola. Rimanere legati attraverso la tavola, ovvero attraverso il buon cibo, il gusto, il cibo che diventa collante, connettore, elemento fidelizzante oltre che alimento, cibo che diventa attesa, sorpresa, stupore, piacere, emozioni che si avvicendano, che alimentano la fiducia, fiducia che diventa fedeltà, fede. E nel momento in cui tu, più che un prodotto, riesci a dare al tuo cliente queste emozioni, ebbene quel cliente, quella persona, non si abbona solo al tuo cibo, no, no, si abbona alle emozioni che tu sai dargli, che diventano poi le sue emozioni. Esattamente come un tifoso sfegatato si abbona alle emozioni della sua squadra del cuore. Sì, è lo stesso magico meccanismo, un atto di fede, di fiducia. Una sfida difficile per chi promette, certo. Difficile come difficile per la tua squadra del cuore vincere un trofeo. Ma è la tua squadra del cuore, la tua fede, e anche se perde delle partite, il regalo è in ogni gol che realizza. E poi, quando magari alza un trofeo, beh, quell'abbonamento vale tutto l'oro del mondo. Sì, è lo stesso magico. Ragazzi, si può cambiare moglie, marito, compagno, ma è impossibile cambiare la squadra del cuore. E anche se a questo giro non andremo al mondiale, le emozioni restano anche quelle passate. E allora, mi sa che il modello di business in abbonamento funziona davvero, pensateci. Questo video è finito, grazie per averlo visto sin qui. Metti un like se hai gradito e iscriviti, anzi abbonati al nostro canale, è pure gratis. La tua attenzione per noi è importante. Attiva la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Noi ci vediamo, prossimamente sentite? Le emozioni continuano. Faremo del nostro meglio per darvene tante altre. Giuro!